Ma nonostante il bear market ci sono comunque delle criptovalute che stanno performando comunque bene e che addirittura hanno un trend rialzista, è proprio così ragazzi tra le top, tra le altre cose top cripto, oggi ne vediamo 5, andiamo a guardare quello che stanno combinando da giugno perché hanno sicuramente iniziato un nuovo ciclo annuale, sono in trend rialzista, si sono comportate molto molto bene, qualora le cose si dovessero riprendere anche per Bitcoin, Ethereum e in generale per l'intero mercato finanziario potrebbero ulteriormente beneficiarne anche perché hanno dimostrato una stra 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 forza relativa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ho ripreso il mio Bitcoin d'oro ragazzi per portare fortuna al re delle cripto che la prossima settimana ha pronto insieme a tutto il mercato il macello dei dati dell'inflazione US e che sicuramente muoveranno tantissimo il mercato. Va bene, allora io ho preparato già questo scritto, oggi facciamo un video snello più veloce, andiamo a vedere qualcosa che è un trend rialzista intanto e già questo ci mette allegria ragazzi. Ma prima di andare avanti ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mi lasciate anche il pollicione, piante sempre una mano con la vostra presenza e andiamo subito a vedere quelli che sono i grafici. Iniziamo dalla prima criptovaluta in questione che è Atom ragazzi, vabbè non ha bisogno sicuramente di presentazione. Guardate il trend che è iniziato da giugno quindi dal minimo, famosissimo minimo del 16 giugno e che nel caso specifico vedete è qui 18 giugno per Atom, quindi la zona tra il 16 e il 18, questa zona qui che ha fatto un minimo importantissimo per questa criptovaluta che ha iniziato un nuovo trend completamente diverso dal precedente. Quindi si potrebbe anche dire che il bear market che era avvenuto dai massimi è in teoria terminato ma meglio secondo me dire ha preso una pausa per questa criptovaluta proprio intorno al mese di giugno. Mese che comunque ha avuto un impatto molto rilevante per tantissime delle criptovalute, tantissime no a dire la verità, sono alcune hanno, si rimantengono sopra i minimi di giugno, delle top ovviamente c'è Ethereum che è sopra i minimi di giugno, Bitcoin invece no e questo diciamo confonde un po' le acque perché il mercato cripto sia un pochettino spostato, è un po' diventato diverso anche perché questa criptovaluta in questione ragazzi fa parte sempre delle top cripto, quindi vedere un trend al rialzo così impostato è comunque significativo, cioè significa anche ragazzi che il mercato delle cripto non è che sta o è defunto al momento, ci sono delle realtà che perseguono i loro obiettivi, progetti che vanno avanti che sono di gran lunga buoni e questo è molto interessante. Potremmo anche guardare questi dati ragazzi proprio in un mercato orso per farci un po' un'idea di come un team, di come un progetto cripto gestisce anche momenti di pericolosità, come un mercato orso, gestisce anche fasi di complesso, complesse del mercato, cioè quando il vento non è in poppa, perché quando non c'è il vento in poppa, quando non spingono a burrano, quando non spingono anche il mercato ordo, quando i tassi sono contrari, ovviamente ragazzi è più difficile stare a gallo, è più difficile performare in un certo modo, al di là della qualità del progetto eccetera, è comunque tutto più difficile, perciò vedere queste cripto che performano bene anche in questo contesto è significativo. Ora, questo non vuol dire che continueranno così e che magari sarà molto meglio se i mercati si riprendono in generale anche bitcoin, ma è un punto importante che ci dà anche una indicazione, un'evidenza empirica sui fatti, sui dati, non sulle opinioni, che comunque stanno lavorando molto molto bene, quindi è molto bello andare a conoscere queste realtà anche in una fase di bear market, perché il bear market insegna tantissimo ragazzi, poi da qui a prendere posizione rialziste contro mercato, magari è un po' complicato, bisogna guardare anche le questioni tecniche e le questioni delle previsioni di trading eccetera, quindi è molto difficile. Comunque linea di massima Atom, tra le top 5 cripto da giugno, con un trend estremamente rialziste e anche molto pulito, ha fatto 204% dai minimi di giugno sul massimo, attualmente si attesta a 132%. Da un punto di vista ciclico è in fase di chiusura di un ciclo trimestrale, quindi tre mesi al rialzo, teoricamente potrebbe aver già chiuso, nella giornata che ha fatto i minimi del 4, anzi scusate 3 di ottobre, oppure allungare poco poco, perché in realtà 106 giorni sono un minimo per un ciclo di questo tipo, però sono già sufficienti, di solito si va tra i 100 giorni e anche i 140 su questi tipi di cripto, perché a volte alcune criptovalute hanno fatto anche cicli di questo tipo. Atom però in generale lo scorso teorico ciclo annuale l'ha fatto molto corto ragazzi, quindi da 363, anche per questo il minimo di giugno era completamente inatteso, che partisse diciamo una fase del genere, perché è completamente diversa dai precedenti, però ci sta anche perché queste sono criptovalute molto giovani e hanno comunque anche alle spalle pochi dati statistici, quindi andare a fare analisi di questo tipo ha un margine di errore sicuramente superiore rispetto a quella che si fa per esempio su Bitcoin. Comunque al momento, da un punto di vista di analisi tecnica, il superamento delle famose mie due medie 11-21, quindi il rientro in questa zona qua, potrebbe indicare il tentativo di Atomo di iniziare un nuovo ciclo trimestrale, quindi tentare di breccare anche i successivi massimi. In pratica il livello di resistenza molto rilevante in questa fase è intorno ai 15 dollari e questo potrebbe essere anche, perché no, preso come riferimento per un eventuale trade anche al rialzo. Passiamo alla seconda cripto che proprio nella giornata di stanotte, che io ero ancora sveglio, ha avuto un hack, cioè BNB, quindi Binance Coin, che è stata bloccata, adesso stanno sistemando tutto, sembrerebbe che risolvano anche la questione dell'hack e quindi l'hacker non vada, diciamo, in profitto con questa sua operazione. Ma al di là di questo, ragazzi, in questo momento BNB ha iniziato anche una fase rialzista proprio dai minimi di giugno, guardate, anche la struttura molto simile a quella di Atomo, perché? Perché tutte queste criptovalute che sono in pratica in trend rialzista da giugno è perché ha iniziato probabilmente un ciclo annuale e a differenza, diciamo, di Bitcoin, Forze o di Ethereum. Questo non lo sappiamo, ma certo è un punto di cui rendersi concio, cioè è una cosa da tenere in considerazione anche sul fatto che qualora il ciclo annuale fosse effettivamente iniziato per tutte le cripto a giugno, la questione non è bellissima, soprattutto per Ethereum e BTC. Però, poi questo, insomma, non riguarda questo video. Allora, trend al rialzo anche per BNB, che dal minimo di giugno ha fatto un massimo a 78-80%, adesso si trova a più 50%, considerate anche che viene bene la top 10, quindi è tra le cripto più capitalizzate, quindi comunque una variazione percentuale di questa criptovaluta ha un peso in termini di valori assoluto, di gain, proprio di money che si spostano, molto importante, insomma, ok ragazzi? Quindi questo è abbastanza rilevante. Poi ha indicato una fase di chiusura il 19 settembre. Questa è una fase di chiusura che potrebbe essere proprio inerente a un ciclo da 90 giorni, quindi un trimestrale standard 93 giorni, quindi proprio standard 30-30-30, ragazzi. Se verrebbe che in questo punto si è iniziato una nuova struttura ciclica trimestrale, che a questo punto potrebbe portarci proprio alla fine dell'anno, quindi verso Natale 2022. Però, 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 è anche vero che da questa fase di alzista di BNB, poi si è verificata una fase al ribasso un po' più pronunciata rispetto alle precedenti e rispetto anche ad Atom. Quindi BNB è sicuramente in una fase più delicata, sempre una top 5 tra le cripto che nel bear market hanno realizzato un trend a rialzo, ma solo superamento di 300, io direi 304, ragazzi, almeno, indicherebbe una ripresa del trend long. In questa fascia di prezzo tra 304 e 2 e 54 è nella terra di nessuno, come si suol dire. Perciò, attenzione, perché un eventuale break anche di questo livello, cioè del minimo che ha segnato a settembre, indicherebbe che tutta questa struttura ciclica si sposta al ribasso e quindi nulla vieta alla cripto di Binance di continuare un trend poi ribassista, quindi fate molta attenzione. Però è interessante, perché? Perché ha segnato una barra di congestione, quindi anche da un punto di vista di trading e di posizione è facile, diciamo, da gestire, perché solo un break qui ci dà un eventuale long gestibile con un rischio reward abbastanza basso ed un eventuale break di questa fase è addirittura uno short, perché da qui poi, ragazzi, è pericolosissimo perché un trimestrale ribassista all'inizio di un nuovo ciclo potrebbe indicare che si scende praticamente fino a luglio 2023. E quindi la questione è, insomma, da attenzionare e soprattutto interessante proprio da tradare con ottica di trading. Guardate bene che questi sono video interessanti anche per una fase temporale media o di medio periodo, 3-6 mesi, ma non per holding, ragazzi. Non fate questo tipo di ragionamenti per position da qui ai prossimi 72 anni. Non è così che bisognerebbe ragionare sul mercato delle cripto per 1740 motivi differenti di cui oggi non parlo perché sennò il video viene molto lungo. Allora, terza cripto in questione, la mia preferita forse per una serie di motivi. Ne ho due preferite, ragazzi, te lo vedo da questa ora. è Matic, ragazzi, perché Matic ha intanto iniziato un trend esplosivo proprio da giugno e poi ha, vedete, indicato in buona sostanza che qui è stato chiuso un ciclo. C'è un problema qui su Matic, ragazzi, perché da un punto di vista di fase ciclica, un ciclo da 333 giorni in un settore come quello delle cripto è realmente molto corto. Quindi l'idea di fondo è che in questa fase Polygon stia affrontando un ciclo doppio, si definisce in questo modo, che porterà a conclusione probabilmente proprio intorno al prossimo anno e che quindi queste siano tre strutture cicliche piccole sottostanti, quindi una cosa del genere. Qual è la morale di questo ragionamento di medio-lungo periodo su Polygon? Che se questa view è giusta, ragazzi, l'intera struttura ciclica è già ribassista. Quindi nonostante Polygon abbia comunque fatto un super trend al rialzo nella fase di bear market, bisogna stare molto attenti su questa criptovaluta perché questa configurazione particolare la rende estremamente debole. Quindi dobbiamo ragionare con molta prudenza. Per fortuna, anche in questo caso, abbiamo dei livelli che sono molto interessanti perché qui, per esempio, abbiamo costruito una barra di congestione che è utilissima proprio per darci la comprensione se questa cripto possa continuare questa fase al rialzo. Solo sopra un dollaro incomincia un nuovo trend, quindi riprende una fase rialzista, sotto 0,6568 centesimi di dollaro, attenzione veramente, quindi perché addirittura potrebbe essere papabile per uno short selling da manuale. Anche qui 95 giorni a chiusura del ciclo trimestrale, quindi iniziato un nuovo ciclo trimestrale che come vedete ha poca potenza e quindi è molto molto rilevante che si vada al di sopra di questo livello. E qualora non ci riesca diventa molto complicato la gestione di questa criptovaluta. Quindi nonostante una delle mie preferite come progetto, come tutto, però poi vedete ragazzi i prezzi ci indichiano una cosa differente, quindi io sono molto cauto in questo momento proprio anche su Polygon per questo problema che vi dicevo insomma sto iniziando a valutare. Dai minimi comunque di giugno ci aveva fatto un bel 232% e considerando che Polygon è una delle top cripto, anche qui si muovono tanti dindini, tanti soldi, quindi tatto di cappello. Però quei livelli devono essere untouchable, cioè non toccati dalla cripto. Se vengono breccati la situazione diventa molto pericolosa, quindi da attenzionare. Bene, passiamo alla quarta cripto in attesa totalmente ragazzi e però ancora una volta alla fine, come si dice, il mercato ha sempre ragione. In questo caso il mercato ha sempre ragione e ci tira fuori che è una delle top cripto del bear market addirittura negli ultimi mesi è Ripple ragazzi, XRP. Perché intanto XRP è la cripto più decorelata di tutte e questo la rende comunque una cripto speciale da un certo punto di vista, ma questo è anche normale visto il concetto che deriva molto dall'atteggiamento e dalle manipolazioni delle istituzioni, quindi Ripple è più istituzionale. Anche qui come Polygon, 333 giorni di ciclo, che poi si possono allungare a 361, un po' strettina direi, no? Come criptovaluta, come ciclo, è vero che appunto siamo qua, però insomma qui potrebbe essere iniziato un nuovo ciclo annuale anche per questa criptovaluta, ma ha fatto una struttura rialzista anche, come vedete, sia da giugno che fino al minimo del 7 settembre, poi è iniziato un nuovo ciclo, in questo caso più corto rispetto alle altre cicli da 70-80, questo qui, che andrebbe in conclusione verso la metà fine di novembre, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Soprattutto è una criptovaluta completamente diversa, perché anche si attegge in maniera diversa, più 92%, sento anche qui una top cripto, è anche sui massimi, quindi le ultime due che vediamo, questa è l'altra mia preferita che sorriva, sono sui massimi dalla ripresa del ciclo, quindi è interessante andarle a guardare. Perché? Perché, ragazzi, una continuazione, intanto queste sono proprio in trend al rialzo, questo è un trend rialzista, quindi una continuazione del trend, forse una fase di ripresa anche delle cripto potrebbe innescare su queste proprio una continuazione di questo trend, non lo so se Ripple, ecco, abbia voglia di fare questa cosa, perché in ogni caso, ragazzi, resta una cripto estremamente manipolata e difficile anche da tradare, perché ha molti spike, molti impatti, è ovvio che questo boom è venuto per le questioni legate alla SEC, eccetera, però in generale, poi, insomma, bisognerebbe tener conto anche di queste situazioni. Al di sopra di 0.058, continuazione del trend al rialzo, assolutamente possibile, e tra le altre cose poi si va a chiudere in una nuova struttura di prezzo che è molto ampia, che è questa qui, quindi nulla vieta con un rialzo ulteriore a questa criptovaluta, magari di passare da qui in mezzo a questa zona, e quindi farci un più 45%, che direi che non va buttato, diciamo, soprattutto in un bear market, ragazzi. Quinta e ultima criptovaluta, un'altra delle mie preferite, ve l'avevo indicata da un sacco di tempo, e ha fatto quello che doveva fare, ed è Ethereum Name Service, ragazzi, quindi ENDS. La criptovaluta regata, certamente, al Web3, ed è quella più legata alla questione dei domini, eccetera. Allora, in questa fase di ribasso, non avendo molti dati su questa cripto, vanno tutti attenzionati, la struttura di analisi ciclica può essere solo abbozzata, perché non c'è una struttura di dati sufficiente e darci un valore statistico proprio, insomma, neanche accettabile, ragazzi. Ok, qui la mia view su questa criptovaluta è più legata a questa figura di analisi tecnica, una cosiddetta coppa, cioè è la figura di analisi tecnica molto interessante, perché indica una variazione di trend, non da un punto di vista di trend geometrico a zigzag, ma di trend ciclico con un cerchio. Questo è molto rilevante, perché ci dice che comunque è iniziato un nuovo ciclo lì, e ci dice anche che questa criptovaluta ha, diciamo, iniziato una nuova gamba che non è un ritracciamento del ribasso precedente. Questo è interessante, ed è proprio, insomma, stato molto bello anche vedere come questa criptovaluta abbia di gran lunga dimostrato questa cosa, e addirittura, vedete, sta proprio sui massimi iniziati dal mese di giugno, diciamo, da questa fase qui, che è 13 giugno per quanto mi riguarda, e ha fatto due strutture cicliche, una da 77, poi questa nuova che sta tentando di sviluppare, che probabilmente sarà simile, anche qui in chiusura, intorno alla decade di... la prima quindicina di novembre dovrebbe essere questa struttura. Ora, le famose corn, sono una struttura di analisi tecnica, quindi se da un punto di vista ciclico abbossiamo le analisi perché non abbiamo dati, da un punto di vista analisi tecnica quella è, e non ci si spiega. Allora, dopo la coppa, che è una bellissima figura di inversione, ci sono anche le corn, cioè il doppio massimo, che sono una figura invece di attention please, perché questa struttura qui deve essere ribrecata, questo è il discorso, quindi va bene anche una fase di ribasso qui, magari anche una indecisione, ma poi bisogna breccare questo livello, altrimenti questo doppio massimo diventa figura di inversione, nonché segna un massimo superiore nella prima parte, che qui se fosse iniziato un nuovo ciclo potrebbe essere un ciclo che sta finendo la sua fase up, e questo è molto delicato, quindi vedete come anche queste cripto che comunque hanno performato molto bene, sono veramente delicate in questa fase. 13 dollari è, secondo me, un punto molto rilevante per quanto riguarda ENDS, mentre i 20 dollari le danno il via a un nuovo rally, e quindi un superamento di questo livello di resistenza continua, da continuità a questa criptovaluta, mentre uno sfondamento di questa fascia di prezzo intorno ai 13 intanto indicherebbe al 100% la chiusura di questo ciclo sottostante, una cosa del genere, poi dalla chiusura di questo ciclo ammetteremmo un grande punto interrogativo che io non so disegnare col mouse, ecco che l'ho rifatto meglio, perché da lì in poi bisognerà vedere se una struttura del genere ha la forza di ritornare sopra i massimi, è complicato, perciò da attenzionare in questa fase. Trading range intorno a questi valori, come le altre, però anche questa, una super top cripto, nonostante il bear market. 5 criptovalute che abbiamo visto oggi, tutte da attenzionare, sono tutte buone, Atom, BNB forse la più deboluccia da certi punti di vista, Matic con la struttura ciclica molto particolare, ternaria, che indicherebbe grande pericolo e potrebbe addirittura essere una guida a quello che potrebbe succedere a tutte le altre criptovalute, quindi da estremamente attenzionare, diciamo così, e poi Enz, con questa sua figura, addirittura sui massimi storici, che poi non vi ho fatto vedere, diciamo, quanta ha guadagnato, ma è stata, siamo a 142%, 145% dai minimi. Va bene, allora, qual è la vostra preferita di queste 5 top cripto e quale state seguendo, ragazzi, e cosa ne pensate, secondo voi, di questo tipo di analisi, dove possiamo andare, se magari Bitcoin e Ethereum si riprendono anche in Altac, eccetera, con cosa potrebbe succedere a questa cripto. Fatemelo sapere nei commenti, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!